Giorgio Marchegiano, capogruppo di opposizione di Ortona Cambia, annuncia la sua candidatura a sindaco per le prossime amministrative e lo fa presentando la coalizione composta dalla stessa Ortona Cambia, lista civica Marchegiano-sindaco, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle. Quali gli obiettivi della coalizione? L'obiettivo principale che abbiamo è quello di fare in modo che Ortona possa finalmente ricoprire un ruolo centrale all'interno delle scelte politiche ed imprenditoriali della nostra città. Negli ultimi anni Ortona non ha ricoperto questo ruolo così determinante e purtroppo i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi tre anni questa città ha perso oltre mille residenti, un dato allarmante soprattutto perché parliamo di una città della costa, quindi una città che invece naturalmente dovrebbe accogliere persone, dovrebbe essere in condizione di garantire un futuro lavorativo, professionale e umano a tutti coloro che sono nati in questa città o che oppure intendono trasferirsi. Ortona è una città importante, ha un porto di rilevanza regionale, è al centro della costa dei Trabocchi, è in una posizione strategica anche per quanto riguarda l'asse della Marruccina e con l'innovazione prevista dall'Azzes è sicuramente una città che merita un'amministrazione all'altezza di queste sfide. Con la nostra coalizione siamo convinti di poter offrire questa possibilità a tutti i cittadini ortonesi affinché possa finalmente voltarsi pagina dopo l'amministrazione Castiglione che ha deluso molte delle aspettative che aveva suscitato nel 2017. Lei ha fatto un appello per arrivare all'unità, ha fatto un appello alle liste civiche, alle forze di centro-sinistra, dando pure la sua disponibilità a eventuali primarie. Sì, siamo appunto determinati nel fare in modo che ci sia la possibilità di un confronto anche con le altre forze civiche del centro-sinistra perché siamo dell'idea che l'unità sarebbe davvero un messaggio positivo da lanciare a tutti gli ortonesi in una fase storica così complessa. Per quanto riguarda la mia candidatura a sindaco è una candidatura ovviamente che è il frutto di un percorso fatto con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e le liste civiche che mi sostengono ma è un percorso che noi siamo pronti a mettere a disposizione della città per un confronto con le altre realtà politiche se necessario anche attraverso lo strumento delle primarie che consentono a tutti di avere pari dignità nella scelta di un unico candidato sindaco e, cosa ancora più importante, consentono a tutti i cittadini ortonesi di partecipare democraticamente indicando quello che per loro deve essere il sindaco della città di Ortona nei prossimi anni.